No, c'è domani, non giusto? Come te l'allora con tutti i nonni? 9 anni, come sapete? Non siamo sicuri che ti piazza? Bruno, Marisa, Michele e Stefano E papà e mamma? Ah no, Nino, Lucia, mamma, babbo, Bruno, Marisa, Michele e Stefano Quindi bisogna aspettare che ci sia? Anche Stefano Anche Stefano Anche, almeno, nozioni che è Via, manca Cosa c'è scritto? Speriamo che non ci sia lo spiace Abbiamo qualche dubbio? Casomai